Chi ha approfittato del periodo di vacanza della settimana di carnevale al nord e nelle aree interessate all'epidemia da coronavirus avrebbe l'obbligo di comunicazione alle autorità competenti. Anche in regione Campania infatti tutti coloro che stanno rientrando o entrano nella nostra regione da 14 giorni a questa parte, dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle autorità sanitarie delle regioni di pertinenza, dalle aree della Cina interessate dall'epidemia o dalle altre aree del mondo di conclamato contagio, devono comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente. E' quanto previsto nell'ordinanza della regione Campania sottoscritta dal governatore Vincenzo De Luca che ordina quindi ai sindaci della regione ai quali pervengano informazioni relative all'ingresso negli ultimi 14 giorni in regione Campania di cittadini provenienti dalle aree del contagio, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente con segnalazioni anche nominative al fine di consentire l'immediata attivazione di ogni misura sanitaria necessaria per l'accertamento dell'eventuale contagio e di evitare immotivate interruzioni di servizi pubblici. All'autorità sanitaria territorialmente competente che abbia acquisito la comunicazione, si prevede di provvedere all'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ovvero in presenza di condizioni ostative a misure alternative di efficacia equivalente. L'ordinanza è motivata dalla considerazione che si stanno registrando negli ultimi giorni consistenti flussi di rientro di conterranei provenienti dalle aree a regioni dove sono verificati i casi di Covid-19. Allo stato attuale non si registrano nella nostra regione casi di coronavirus, si legge, nell'ambito del territorio regionale occorre pertanto in ragione della diffusività del virus adottare ogni idonea misura volta a contenere il rischio di contagio della popolazione prevedendo misure a carattere preventivo e precauzionale. Tali misure preventive e precauzionali debbono riguardare in primo luogo l'osservanza delle prescrizioni formulate dalla Presidenza del Consiglio e dal competente Ministero della Salute ed in attuazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio scorso che all'articolo 2 prevede queste prescrizioni restrittive. Grazie a tutti.